Sono 16 i precedenti totali tra Empoli e Crotone, ovviamente disputati tutti in serie cadetta. Nel bilancio totale i Pitagorici sono in vantaggio, visto che hanno vinto 5 volte contro le 4 Empolesi, pareggiando poi in 7 circostanze. Ma se andiamo a vedere il bilancio relativo alle gare disputate al Castellani, ecco che gli Azzurri sono in netto vantaggio. Infatti lo stadio toscano è per gli squali un tabù, visto che in 8 precedenti non hanno mai vinto. 4 pareggi e 4 sconfitte, l'ultima delle quali maturata nella stagione 13-14, quella dei play-off, quando il Crotone di Drago si andò a giocare il secondo posto proprio ad Empoli, perdendo per 3-1. Mattatore fu quel maccarone che Nicola e di Suoi si ritroveranno di fronte lunedì, quasi sicuramente in coppia con Gilardino. L'ex Middlesbrug fece una doppietta, per il rosso-blu andò a segno Cataldi. L'arbitro della gara sarà invece Valeri di Roma, che ha già diretto una gara dei calabresi nel 2013 al Granillo di Reggio Calabria. Era agosto ed il Crotone non passò al turno successivo di Coppa Italia, in quanto perse 1-0. Lo stesso direttore di gara ha invece arbitrato i toscani per 11 volte, due vittorie, tre pareggi e sei sconfitte il bilancio. Dunque lunedì sera la Nicola Bend giocherà anche contro la Cabala, cercando di sfatare il tabù Castellani, in una gara che, seppur arrivi solo la terza giornata, può fare già da spartiacque. Da una parte una sconfitta potrebbe peggiorare la situazione, anche a livello morale, dall'altra una vittoria darebbe nuova linfa vitale. Il pareggio muoverebbe la classifica, ma non cambierebbe molto le carte in tavola. C'è un altro sport che sta prendendo finalmente piede anche nella città di Crotone. Si tratta della Gran Fondo Mountain Bike, che grazie alla SD Mischellos Team Bike, domenica 11 settembre, vedrà un importante evento. La predetta società ha infatti organizzato la prima edizione del White Top Silla, che coinciderà con la quarta prova del campionato di mountain bike interregionale. Il tutto si terrà nella suggestiva cornice delle montagne della Silla, un percorso di 47 chilometri che partirà dal villaggio Palumbo ed avrà un dislivello di 1800-2000 metri. L'arrivo è previsto presso la vetta di cima bianca, a 1700 metri di altezza, dove verrà assegnata al vincitore la prima maglia della White Top Silla. È una manifestazione sportiva, però allo stesso tempo noi ricamiamo molti ciclomatori, per cui ci sarà una gara che si svolgerà su un percorso che si snoda nella Silla Piccola, tra Palumbo Silla e l'Alta Valle del Tacina. È un bosco bellissimo, dove noi praticamente abbiamo dei progetti. Il progetto sarebbe quello di portare questa manifestazione e farla diventare una cosa più grande, più importante. Riteniamo che lì si possa fare tantissimo, perché è un bosco incontaminato, è veramente il paradiso della mountain bike, per cui noi vogliamo fare di questa nostra Silla Piccola qualcosa che possa essere rinomata anche a livello nazionale. Cominciamo piano piano, abbiamo dei sogni e li stiamo attuando, li stiamo svolgendo. Infatti quante società parteciperanno se ci sarà una buona... La manifestazione è una manifestazione interregionale, dove praticamente arriveranno società dalla Sicilia, verranno anche da fuori della Calabria. Però io volevo puntualizzare una cosa, che è la cosa più importante. Questa è una manifestazione sportiva, però ha un fine. Il fine è quello di rilanciare a livello turistico anche l'aspetto dei nostri boschi. Noi abbiamo dei boschi fantastici e non lo so se voi sapete, lì per esempio sulle Dolomiti, con queste manifestazioni di mountain bike, hanno rilanciato un po' il loro percorso turistico. Si stanno sciogliendo gli acciai, la neve praticamente viene sempre meno, e hanno riconvertito tutto a livello di mountain bike. I grandi alberghi sull'Etonomiti, per esempio, hanno una ricezione di un turismo sportivo, dove praticamente sta prendendo piede. Voi capite benissimo cosa significa in un centro turistico l'arrivo di 2.000-3.000 persone. Cioè cosa può portare tutto questo a livello anche economico, su quella che è la nostra provincia. Quindi ancora una volta si tenta il connubio sport-turismo che a Crodone può essere praticato? Innanzitutto, e la cosa più importante, è il futuro. Cioè lo sport deve essere un fatto trainante. Cioè il turismo è una finalizzazione praticamente. Cioè noi riteniamo di avere dei boschi, di avere dei posti incantevoli, e in questi posti noi possiamo fare tanto, possiamo costruire tantissimo. Grazie! Grazie.